Una organizzazione criminale è stata smantellata all'alba dalla polizia nel Tarantino e nel Brindisino. Sei le persone di Villa Castelli e Grottaglie raggiunte da ordinanza di custodia per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine a mano armata, furti, estorsioni, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti e altri reati commessi nei due comuni della provincia ionica tra il 2014 e il 2015. L'indagine è partita dalla rapina avvenuta a Grottaglie il 31 agosto 2014, quando i proprietari della pizzeria Notre Dame, mentre si accingevano a chiudere il locale, vennero sorpresi da tre individui armati di pistola e travisati da passamontagna, i quali, sotto la minaccia delle armi, riuscivano ad impossessarsi della somma di 5.000 euro. Nel corso dell'aggressione, uno dei malviventi puntò la pistola alla testa di un bambino di otto anni, figlio della coppia. L'attività investigativa ha permesso di smascherare il pericoloso sodalizio criminale. I membri dell'associazione a delinquere riconducibili alle famiglie Marangi e Leone di Villa Castelli possedevano una violenza ed una spregiudicatezza fuori dal comune. Gli indagati non hanno esitato ad utilizzare le armi per minacciare le loro vittime, né la presenza di donne o bambini ha rappresentato un deterrente per il compimento delle loro attività delituose. Tra gli episodi più significativi contestati agli indagati, una rapina ai danni di un bar di Villa Castelli e una rapina commessa ai danni dell'Eurospin di Grottaglie del 30 maggio 2015, quando due individui con il volto coperto, di cui uno armato, facevano irruzione nel supermercato e si impossessavano dell'incasso della giornata, dandosi poi alla fuga.